Io ho Andrea Mandelli, che è il nostro bravissimo parlamentare, che mi ha detto che una volta era andato da lui un suo caro amico, mi sembra che si chiamasse Carletto, no? E che gli aveva detto, Andrea per favore dammi dieci che cosa? Come si chiamavano? Dieci? Come si chiama quella medicina che molti usano? Quella roba lì, no? Allora lui è andato dietro, ha parlato al suo assistente e gli ha detto, questo qui mi ha chiesto dieci cose, poi è tornato fuori, come mai? Io vent'anni fa ho passato un sabato, una domenica e un lunedì con tre donne svedesi, non ti dico, non te lo dico, queste qua che sono liberali, non come noi, mandano tre figlie loro di cui mi hanno mandato le fotografie bellissime e vogliono che passino con Carletto sabato, domenica e lunedì. E allora ho bisogno di fare bella figura. Lui è ritornato là e dice, ma questo qui se gli diamo dieci pillole di quelle giuste, questo qui va fuori di testa, gli viene un ictus, dico diamogli dei placebo, no? Allora è andato là e gli ha detto, Carletto, guarda che adesso è venuta fuori una medicina nuova, molto più forte di quella di prima, te ne diamo dieci, anzi guarda te ne diamo quindici, prendine quante ne vuoi e poi vienimi a dire lunedì che figura, ci hai fatto bella figura. Alla mattina apre la farmacia e tra le persone che aspettavano l'apertura della farmacia, in fondo c'era anche Carletto. Allora lui guarda Carletto e gli fa, eh? E Carletto? Ah, meno male. Allora, sono proprio contento, guarda, meno male. È andato bene, il placebo ha funzionato. Arriva Carletto lì e lì. E allora? Com'è andata Carletto? Una figura di merda!